musica salve ragazzi sono io Mr. Tyke questa volta non ci vedremo con Minecraft non ci vedremo con altre puntate let's play vari ma ho rispolverato una vecchia piattaforma di gioco o simulazione di vita che è Second Life ci giocai un po' di tempo fa sono rimasto soddisfatto avevo trovato un lavoro e tutto quanto stavo cominciando a fare un po' di soldi solo che per problemi personali ho potuto abbandonare il gioco e questo pomeriggio e questo fine settimana mi è venuto la voglia di rispolverarlo questo è il launcher originale di Second Life c'è anche un altro che si chiama Imprudence che è molto più performante ma ho deciso di reinstallare questo qua originale per il semplice fatto che hanno praticamente ridisegnato tutta la grafica mi sono ricordato gli ultimi giorni quando giocai parecchio tempo fa e hanno cambiato tutta la grafica rendendolo molto più carino e funzionale niente, io ancora non sono entrato per cui entreremo ho appena installato il scusate l'interruzione ho appena installato il launcher quindi entreremo insieme dopo un annetto o sei mesi di assenza o di più non lo so quindi non ho idea di quello che accadrà quindi accediamo ah ragazzi sto anche caricando un video su Youtube quindi non so quanto lagherà la linea ma credo che lagherà abbastanza perchè comunque è un è un gioco online abbastanza gioco o simulatore abbastanza pesante accediamo eh mi sa che comunque questo video ci metta parecchio a caricare ah no vabbè sta scaricando comunque le varie cose anche perchè le regioni che ci siano magari dov'ero l'han cancellata non lo so ecco infatti ok 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 è tutto a posto questo è diciamo il mondo dove ci sono i maggiorenni ovviamente essendo maggiorenne ma per gli utenti minorenni ci sono anche dei mondi eh dedicati ai minorenni perchè comunque per evitare incontri con adulti e pasticci vari ecco qua è partita la musica eh ok sentiamo l'accesso alle reti adesso che una posta la chiedo subito dove l'ha messa? eccolo qua ok perfetto ragazzi sta caricando il mondo eh niente qua hanno messo mi sta caricando i vestiti perchè sono veramente bruttissimo così categorie ok qua hanno aggiunto qualche barra hanno cambiato abbastanza parecchie foglie che casino che casino mettiamo un po' il volume dove mi trovo? ok sta caricando tutti i miei vestiti ma io non mi ricordo di essere così comunque facciamolo caricare eh siamo da soli perchè qua il mio c'avevo un add adesso che mi ricordo che eh praticamente dice le persone che ci sono nella nelle vicinanze però comunque vi ripeto io non mi ricordo di essere vestito così comunque ok qua allora cosa hanno messo? eh seleziona un avatar completo cioè ah ti puoi già prendere i vestiti praticamente ti selezioni automaticamente già un avatar credo e ti vesti automaticamente comunque questo non ci serve non siamo utenti premium ma abbiamo fatto un pochettino di soldini nella nell'esperienza precedente abbiamo fatto intorno ai 1430 lindel che sono una una cifra abbastanza che va bene comunque e ehm ricordiamo che la valuta chi la valota? la valuta che c'è in questo gioco sono i lindel dollar che eh possono essere cambiati addirittura in euro quindi c'è anche l'opportunità di guadagno con questo gioco qualche persona è riuscita anche a guadagnare se ne ha letto addirittura sui giornali inventario ok l'inventario me l'hanno tenuto vediamo un po' si 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 c'è tutto c'è tutto quindi è mantenuto l'inventario ehm possiamo chiuderlo ok impostazioni voce c'è manipulazione della voce ah questa è da pagare per mettere praticamente le voci che si cambiano che hanno le una sostituzione diciamo come most box per dire un programma se scatta la foto bene eh però io avevo ah sono io è possibile io avevo un altro ma cosa mi ha caricato? ma siamo sicuri che questo profilo? non è che ne avevo un altro profilo questo è il mio account vecchissimo che cavolo ho anche le scarpe di due colori diversi ragazzi io non ci sto capendo niente di quello che è successo perché magari mi ha salvato ecco allora ad esempio andiamo a vedere un pacchettino su gesture dovevo avere un AO diciamo che praticamente consente di ehm di tenere tutte le mie animazioni vista AO vedete che c'è ma io mi ricordo doveva un'altra infatti è questo non ha combinato sta caricando tutto ragazzi quindi qua è un casino vediamo un po' le impostazioni non stiamo facendo niente praticamente stiamo aspettando che carichi tutto eeeh dove sono preferenze eeeh grafico ok lasciamo la cosi audio e media vabbè poi tutto quanto la roba la impesteremo dopo perchè adesso sinceramente ho voglia di avere un'altra voglia di giocare però notifiche impostazioni avanzate eeeh c'era anche quanta banda dovevamo dargli che qua adesso non ce l'ho più devo andare veloce quindi è facile anche che l'abbia passata e non me ne sono accorto boh io non vedo però che cavolo io avevo molte più cose avevo oh mio dio perchè mi ritrovo con questo? non è questo quello che voglio stacchiamo da me io credo che sia questo e mi ricordo che era questo lo stiamo credo proprio che sia questo eh infatti questa l'ho anche pagata abbastanza o no? non era questo? ragazzi io non ci sto capendo niente veramente allora togliamoci questo e poi andiamo a farci un giro anche come sia sia e magari me lo sistema in un secondo momento perchè praticamente mi hanno perso tutto mi hanno perso tutto mi hanno perso tutto cioè mi hanno perso allora questa animation ah ecco questo era il mio oh perfetto per il momento teniamo questo ragazzi ok poi magari adesso non voglio bruciarvi tutto il video a stare qui a calzeggiare e facciamoci un giro ok chiediamo tutto visto che da una vita che non ci gioco ok si gioca totalmente con tastiera e andiamo a vedere e andiamo a vedere nel nostro inventario ah si può anche volare con i tasti pug ok con i tasti oh ma questo è Torino allora ragazzi a mountain road tranquilli stiamo andando in varie città che non... ragazzi sta caricando tutto il mondo quindi non ho idea di com'è ok vado a finire fatto sta che comunque boh boh perchè di nuovo la musica va tutto impostato allora eeeh po 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 vediamo un po' eeeh i punti di riferimento ci dovrebbe essere Italia vera eeeh eccolo qua Torino vera andiamo a Torino che qua praticamente ci sono parecchie persone ecco ok anch'io anche Torino ecco perchè mi ha mandato vediamo quest'altro Torino sì sì questa c'è ancora ooooh ok vediamo un po' se c'è ancora qualcuno in questa land ah hanno cambiato addirittura la chat salutiamo un po' diciamo diciamo Torino Torino vera praticamente era era è una delle 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 land che visito più spesso ed è uno di quelle praticamente dove ci sono più italiani eeeh devo dire che che ancora qualcuno c'è queste sono tutte persone vere non ci sono persone finte io sto ancora scrivendo anziché girare uh ah anche qua sotto ci sono ha cambiato parecchio ha cambiato però non ci sono vediamo il mio profilo com'era tra l'altro ragazzi io come avete visto sono Tycaries quindi se c'è qualcuno che eeeh è un giocatore diciamo da da tempo su su si stavo leggendo scusate mi sono perso se è un giocatore da tempo su Second Life o comunque anche voi siete appena entrati o eeeh semplicemente volete volete fare una un emozionante eh partita a Second Life è emozionante diciamo per conoscere molta gente non so più cosa sto dicendo ragazzi non lo so neanche io ecco mi stavo addormentando ho il cervello che non si sta addormentando dicevo se volete giocare a Second Life o se comunque siete già iscritti Second Life se volete aggiungermi eh come amico sono Tycaries sono felice di di accettarvi eeeh sicuramente farò un altro video per far vedere come registrarsi su eeeh Second Life così almeno se se avete bisogno di una mano eeeh sicuramente eeeh saprete come come cavarvela quindi allora vediamo un pochettino perchè mi hanno cambiato parecchie cose non hanno cambiato non ho capito qui niente profilo ok c'ho anche una ah si questa è la mia ragazza che anche le gioca a Second Life e mi era addirittura sposato sul gioco pagando ovviamente preferite sono i posti eeeh questa cos'è? la mia casa la mia casa niente qua ragazzi non mi muovo abbastanza velocemente perchè sto caricando questo questo video eeeh vediamo un po' niente però io voglio vedere da quanto tempo sono iscritto perchè ce l'ha scritto da qualche parte noto molte cosette ma lascia tutto no musica profilo info e penso che sia qua per aree dove c'è scritto compleanno di second life giugno 2010 quindi sono siamo adesso al 18 novembre il 18 novembre del 2012 quindi sono due anni sono quasi tre anni che comunque sono due anni che non giocavo non tornavo ecco taek scappavi da qualche infrattamento vedete ragazzi che comunque sono tutti abbastanza abbastanza comunque amichevoli quindi quindi è veramente se uno ha bisogno di compagnia questo gioco è veramente veramente utile gioco io continuo a dire lo gioco ma secondo me è semplicemente una seconda vita a tutti gli effetti perché comunque è amici tutto quanto ma ho trovato allora senti lontananza mi sa che c'è gente che sta parlando con il microfono oh basta ecco se non sono più abituato c'è gente che parlava sbaglia ecco c'è ragazzi che cantano c'è due persone che parlano con il microfono adesso scrivo ma come Carlo si chiude oh buttate ecco qua vediamo un po' se qualcuno saluta perché non ci sento qualcuno mi ha scritto qualcosa vedere il video iscrivetevi al mio canale scusate lo spam se te lo sa lo spam www.youtube.com slash dmr taik e caricherò il video entro questa sera se vorrete vedere il video iscrivetevi al mio canale scusate lo spam www.youtube.com di mr taik bene ragazzi ok per non darvi altre noie mi sa perché questo video l'ho fatto abbastanza moscio ecco e niente io chiudo il video qui c'è qualcuno che sta parlando come dicevo prima ecco il volume così a me ne posso far sentire come è reale come è reale eccolo uno può parlare diciamo come se fossimo persone vere e niente così dicevo ho fatto questo video un pochettino moscio adesso non usiamo l'audio però era solo per vedere diciamo una prova per vedere come come avevo l'impatto a a qualcuno qua sta costruendo come era l'impatto praticamente con questo gioco il prossimo video diciamo dove farò vedere come iscriversi a a second life e comunque le principali cose magari vi farò vedere come funziona più da vicino sicuramente sarà un po' più entusiasmante e vi ringrazio scusate le mie gaffe veramente tante ma ero impegnato col cervello perché comunque è un gioco dove girano dei soldi quindi è meglio stare un po' più attenti dove si clicca e ovviamente se non mettete date di carta di credito e roba varia non avrete problemi e e niente ok ragazzi io vi saluto vi scuso ancora per le rogne e ciao a tutti